Musica Fisico Negri ma Resistori riesce a rinculare poi il gancio sinistro di Tessitori che di due falli e strozza Lupi, palla in post basso profonda per Negri che usa bene il corpo non vicino a canestro per la buona difesa di Negri Tomei spalla a canestro contro Galbarini, tira cadendo indietro, trova due punti e va e poi rientra nelle rotazioni, Bonora lascia libero Lottici da tre punti la tripla ancora Montecatini, Bonora per l'uscita di Nicolai, la tripla di Nicolai la Zanatta gira intorno all'aiuto di Barraco e trova sul lato opposto Lottici, la tripla di Lottici va anche come Dino Mastrantoni al presidente Tiziano Palla, Biffi dalla parte opposta, si arresta in transizione da tre punti e va a bersagliazzo Galiazzo scende in palleggio e c'è un lob notevole per Tessitori che va a oltre in posizione centrale e allora va allo scarico per Barraco buono il lavoro di... Dall'altra parte con Ferrari accoppiato con Barraco, andrà in rovesciata Ferrari adesso per Montecatini, il pick and roll da Barraco e Strozzalupi cadendo merito di chi l'ha struito da quando era ragazzo ma soprattutto delle grandi testa alta per Bonora che trova un gran scarico per Giarelli finta Giarelli, fa volare azione difensiva, è uscito fuori quella palla recuperata e poi la... giocare uno contro uno contro Zanatta, gli dal fondo Zanatta se lo prende Barraco e va a realizzare interrompe il palleggio troppo presto, serve Negri dalla lunetta, il tiro di Negri e va da parte di Cei per poi servire il ricciolo di Nicolai, grande lo scarico per Barraco che va per 17, perdon, per Barraco che ridà 9 punti a Cremona, il pick and roll Bonora Barraco, alza la palla ancora per Barraco e Toscana nell'ultimo... ...mesto di Adilettanti su Sport Italia Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.